Ne hai un terzo poi invece che ricorda? Sì, è una frase sulla schiena, ricordati di essere felice, c'è scritto, e l'ho fatto dopo il mondiale in Perù. Che ricorda un poco la vittoria e molte altre cose, perché penso che nessuno di noi nella vita si accontenta mai. E quindi ogni tanto bisogna fermarsi e accontentarsi di quello che uno ha senza voler sempre strafare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.